Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo la rubrica di approfondimento sull'apertura e approfondiamo l'apertura spagnola. Apertura famosissima, giocatissima. Ho visto che il video è per questo spiego in 10 minuti, è stato un successo, quindi credo vi sia piaciuto. Se non l'avete visto ve lo metto qui sopra. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a cliccare sul tasto iscriviti al canale YouTube, anche perché so che la metà di voi che mi vede non si è iscritto al canale. Quindi che aspettate? Iscrivetevi al canale, supportate questo progetto nuovo che è in veloce crescita e attivate le notifiche, cliccando sul tasto sulla campanella, così appunto vi arrivano le notifiche dei prossimi video. Allora, apertura spagnola. Abbiamo comunque già visto le linee principali della spagnola. Oggi vediamo più in dettaglio l'attacco Marshall. Ovviamente la variante più temuta da bianco della spagnola, perché è quella più aggressiva. Effettivamente il nero può dare molto fastidio al gioco del bianco. La partita di oggi è tra Kramnik e Ronjan, giocatori fortissimi, famosissimi, super top GM, non sto qui a dirvelo, che hanno giocato questa partita qualche anno fa, o non vedo esattamente l'anno, forse 2015, vabbè, poco importa. A6, volante principale, alfiere A4, fra l'F6, attacca il pionere A4, si può arroccare, non è un problema se mangia, perché dopo torre 1 caderebbe E5, alfiere E7, torre E1, dipende il pionere E4, qui, ok. B5, alfiere B3, B5 a doppia idea, minaccia l'alfiere, ma soprattutto libera casa in B7, qui vado veloce. Arrocco C3, l'idea della spagnola è quella di avere un forte controllo del centro, e quindi con D4, ed ecco l'attacco Marshall, D5. Questo qui è il setup, la posizione dell'attacco Marshall dell'apertura spagnola. Da qui comincia tutto, il casino, il putiferio, perché è una variante molto molto complicata, infatti i top GM la giocano solo perché la conoscono veramente bene. A me l'hanno giocata forse solamente una volta, perché comunque anche il nero ha paura ad entrare in queste linee super teoriche, considerate che qui ci sono varianti che fino alla ventesima sono conosciute, sono studiate, quindi qui veramente vince chi ha studiato di più. Però, se giocate la spagnola, dovete comunque conoscere, magari non fino alla ventesima, ma in linea di massima una conoscenza ci sta, almeno dei piani principali. Perone per, cavallo per, cavallo per 5. Quindi c'è questo perone in presa, lo potete mangiare. Stando attenti, ma potete mangiarlo. Cavallo per i 5, torre per i 5. Quindi c'è uno scambio di pezzi leggeri, in particolare dei cavalli. C6 per difendere il cavallo che è attaccato due volte. D4, subito controllo del centro, ma soprattutto ricordatevi da bianco, il piano è quello di sviluppare i pezzi. È vero, avete un po' in più, ma a quale prezzo? Al costo di avere l'alfiere, cavallo e torre tutti a casa. Quindi prima riuscite a sviluppare i pezzi, prima potete concretizzare il vantaggio materiale. Per ora ancora la vostra posizione non è vantaggiosa, è parità. Quindi perone in più, in compenso, ritardo di sviluppo. Un gambetto. Alfiere di 6, attacca la torre. Torre in E1, donna H4, minaccia matto, vabbè, non è proprio matto, comunque minaccia il primo H2. G3, donna H3, fin qui è tutta teoria conosciutissima, la sanno tutti. Tutti, ovviamente, livello elevato, perché che hanno studiato l'apertura spagnola, in particolare l'alta commerciale, fin a qui tranquilli che ve la giocheranno sicuramente. Alfiere in E3. Esiste anche torre in E4, che se non sbaglio è proprio quella che ho giurato io qualche anno fa, quando me l'hanno giurata in un campionato italiano, under 20, se non ho detto male, e la torre in E4. Vediamola velocemente perché è interessante, come linea qui G5 gioca il nero. Pazzesca. Donna F1, idea di cercare di cambiare reggine. Come sempre, chi è in vantaggio vuole cambiare i pezzi, chi è in svantaggio deve tenere i pezzi. Quindi il nero deve sfruttare il ritardo di sviluppo dei pezzi e il bianco, quindi non deve cambiare i pezzi. Donna H5. Cavalli in D2. Alfiere F5, attaccando la torre. F3. Qui il bianco è disposto a cedere la qualità per avere un compenso posizionale. Cavalli in F6. Non mangia il nero la qualità, è un'apertura veramente complicata. Torre in E1. Però finiamo magari questa variante. Vediamo qualche mossa più in là, giusto per conoscenza. Torre in E8. Scambio di torri. A4. Qual è l'idea? Liberare la torre. Donna G6. Per un E per. Alfierine in D3. Donna F2. Considerate l'errore. La migliore è Donna D1. Alfierine in E2. Donna E1. Alfierine in D3. Qui si può dare il perpetuo. Se non vi danno il perpetuo, quale sarà il vostro piano? Chiaramente cercare di sviluppare questo alfiere. Quindi se il cavallo magari lo fate uscire, potrebbe dare spazio all'alfiere. E questa torre invece deve giurare una con A. Chiaramente è molto difficile anche da giurare in questa posizione, perché siete molto passivi. Come potete vedere. Ritorniamo all'evento principale, perché qui Kramnik ha giocato al fiere D3. Fiere G4. Tacca la regina. Donna D3 unica. State attenti. Qui dovete studiare. Qui sì. Perché qui attenzione che tipo a Donna D2 si è matto. Subito. Partita persa. Quindi se giurate la spagnola e siete disposte ad entrare in questa regina di attacco Marshall, questa studiatela. Questa è importante. Per G4 l'idea è fra il f3. Quindi Donna D3, idea Donna F1. Torrine 8. Perché chiaramente sull'alfiere F3, Donna F1 para il matto. Ok. Cavallo D2. Torrine 6. Guardate qui. La torre sta arrivando e minaccia un altro matto. Che posizione è difficile da bianco. Anche perché chi gioca la spagnola è abituato ad attaccare. Quindi io, che ho giocato molto spesso la spagnola, questa apertura la detestavo. L'attacco Marshall è veramente difficile da giurare da bianco. Però si può. Ovviamente qui Kramnik sta ed è in pieno controllo della posizione. Quindi non bisogna andare in crisi se il vostro avversario vi sta attaccando. Ok. Calma. Si ragiona. Qui la partita è assolutamente equilibrata. Quindi basta trovare tutte le mosse per difendere. Donna F1, Donna H5. F3. Qui in realtà si può giocare pure A4. A4. Esiste. Il piano è sempre lo stesso. Quello di sviluppare la torre nella con A. Effettivamente questa torre non ha gioco in D1, C1, B1. Perché è tutto bloccato. Quindi è interessante questa A4 per questo motivo. F5 per esempio. F4. Bloccare invece l'attaccato di Re sarebbe ottimo per il bianco. Perone per. Alfe per D5. Perone per. Donna G2. Che attacca il perone. D5. Torre in E8. Donna per D5. Molto interessante. Donna F7. Cavallo C4. E qui il bianco sta benissimo secondo me. Il bianco sta benissimo. Si è liberato. Non ha più alcun problema. La torre qui mi accia A4. Ma poi mi accia anche A6. Qui mi piace molto la posizione del bianco. Poi andiamo indietro. Perché non ha giocato A4. Kramnik. Ha giocato F3. Ha avuto un po' paura Kramnik della posizione. Perché F3 è una mossa molto difensiva. Cavallo per E3. Donna F2. Cavallo in D5. F per G4. Quindi lascia l'alfe in presa. Perché chiaramente sta minacciando l'alfe in G4. Che rimangia. Donna F4. Quindi ha ridato il pedone di vantaggio. Per proporre cambio di regina. Ma un po' anche per liberarsi. Perché aprendo la corona F. E semplicando la posizione. Perché abbiamo tolto l'alfe in campo chiaro. Che probabilmente è il pezzo più offensivo del nero. Guarda qui torniamo l'alfe indietro. In questo momento questo alfiere è minaccioso. Ci sono le minacce del FH3. Ma anche il FF3. Tutte queste case sono case deboli del bianco. Quindi riuscire a tolto di questo alfiere è ovviamente un punto a favore del bianco. Qui infatti il bianco comunque respira. Non ha più grandi problemi. Donna F5 è considerata debole. Si poteva fare donna per F3. Cavallo per F3. Torre 8. Mantenendo il controllo della corona E. Qui il nero non stava affatto male. Poteva benissimo giocare questa linea. Oppure anche donna G6. Pure interessante donna G6. Con torre per E6. Donna per E6. Era anche una linea che poteva scegliere il nero. Qui si poteva giocare tranquillamente. Vediamo invece donna D5. Donna D5. Torre per perone per. Cavallo in E4. L'E4 veramente ottima. Infatti mette questo cavallo in una posizione, in una casa fantastica. Una casa centrale. Veramente ottima. Minaccia la regina, minaccia l'ultiere. Questo pedone isolato e viene, ok, non proprio bloccato ma quasi. In futuro magari può essere anche attaccato. Insomma, veramente un ottimo modo per rimuovere il cavallo da una posizione di attacco. Infatti la regina stava mettendo il cavallo. Donna G6. Qui possiamo vedere che su torre per F3 c'è il cavallo per G5. Torre in E3. Re in F2. Forte. Re in F2 è mossa forte. Infatti qui, cosa può fare il nero? Forse unica. Torre in E2. Ah no, va beh, può anche rimanere la torre qui perché in realtà è difesa. Però simila solo al F3 per G5. Quindi qua la torre si deve togliere. Certo. Perché, vabbè, H6 è al F3 per G5 ovviamente. Quindi torre in D3. E secondo me, ok, a parte che c'è più il n6 sotto, ma secondo me la torre la perde. Perché per, per donna è per, re in E2. E sì, la torre cade. Fatemi analizzare un attimo. Sì, dai, direi che la torre cade. Quindi per questo non si può mangiare la regina. Donna G6. Donna in E2. Poi lì in F4. L'F4 in realtà è interessante come mossa. Però non è considerata la migliore. L'idea è di sfruttare l'inchiudatura per G3 e minacciare la regina. Però in realtà al F4 potrebbe essere più interessante con l'idea poi di entrare con un F3 scacco. Oppure anche al F3 in E7 potrebbe essere giocata. Poi seguire la torre 1. Anche se sinceramente qui, analizzando, ma poi c'è il bianco non dispesa affatto. Anzi, io lo giocherei tranquillamente da bianco. Questo primo E6 viene attaccato. Quindi è veramente buona. Andiamo avanti. Cavallo F4. Donna in C2. Idea di difendere il cavallo. Bevo un attimo. Ok. Donna C2 difende il cavallo. Cavallo in H3 scacco. Re in G2. Donna in G4. Alfiere per E6. Questa è la mossa clou. Infatti, donna in G4. Anzi no. Cavallo a H3 risulta essere sbagliata perché il nero non si è accorto di questa combinazione. Che ora vediamo. Re in G2. Donna G4. Alfiere per E6. Questo è il trucchetto, mettiamola così, che il nero non ha visto. E che confuta la variante cavallo a H3 scacco. Infatti, donna per E6. Donna B3. Cavallo F4 scacco. L'idea qual è? Che questo cavallo non può sfuggire. Quindi su donna per donna. Per una per. Il cavallo viene mangiato. Non c'è modo di difendere. Tra l'altro di 5 c'è il cavallo qui. Tra l'F4 viene mangiato. E quindi, come sappiamo, cambiando le regine è un punto a favore del bianco. E quindi per questo motivo, una volta che il bianco evita questo attacco, va in vantaggio. In realtà il nero, quindi Aronian, non ha mangiato subito. Ha fatto prima con l'effetto scacco. Pedone per. E poi donna per. La condizione è simile. Giustamente si è maggiore il pedone. Però qui il bianco è un ottimo gioco. Torre per E6. Va un pedone in più. Come regola generale, in genere, quando state difendendo, quando riuscite a semplificare, quindi raggiungere il finale, molto spesso siete in vantaggio. Siete in vantaggio perché, generalmente, il giocatore che attacca non si cura molto di difendere le case deboli, i pedoni arretrati, quindi difende i concetti posizionali, quindi temi posizionali, ma si preoccupa di più di attaccare il più velocemente possibile. E quindi in questo caso, come vediamo, come potete vedere, il pionato 6 è debole, il pionato 6 è debole, quindi in un attimo questo finale ovviamente è pantagioso per il bianco, che è uno strutture pionale assolutamente buona, questi pionati sono messi bene. Ok? Il pionato 6 è doppiato, però viene difeso facilmente, quindi non ha alcun problema. Torre c8, cavallo c5, vediamo come si può vincere questo finale Re in f7, cavallo in d3, g5, cambio Perché è un cambio? Perché questo peone ora viene facilmente attaccato E si mangia e siamo già a due peone di vantaggio Il pianeta con due peone di vantaggio ovviamente è vinto Vediamo come perché c'è una mossa molto molto bella, proprio tra poco Che fa vincere questo finale Re in d6, c4, torre f8, scacco, re in e3, re in c7 Re in e3 è fondamentale per difendere la seconda Quindi evitare che la torre vada in f2 Scacco, re in c6, mangia Torre in f1, torre h6, re in b7, torre in h5, torre in b1 Attenzione ci siamo quasi Re in d3 è ora l'intermedia Su b per c, voi cosa fareste? Mangereste E' sbagliato Qui l'intermedia è re c2 Molto molto bella Infatti se qui il bianco mangia La torre mangerebbe il p2 Re c2 è molto bella perché la torre si deve muovere per forza Quindi per esempio in a1, pione per e ovviamente con tre pioni di vantaggio la partita è finita E infatti qui Aronian ha abbandonato Re in c2 è fondamentale È molto bella da vedere Ovviamente non è intuitiva Quindi mi aspetto che non l'avrate vista subito Avete vista? Complimenti Ok Siamo giunti alla fine di questo video Spero vi sia piaciuta Secondo me è una partita molto interessante L'attacco Marshall è una delle aperture più complicate Insieme per esempio all'attacco Botvinnik della Semislava Che conosco pure molto bene perché gioco la Semislava da nero E' un'apertura molto molto complicata Quindi ma è interessante queste partite A me piacciono tantissimo perché c'è un attacco incredibile Quindi spero che io sia riuscito a portarvi questa emozione in questo attacco Ok Lasciate un like se vi è piaciuto Commentate su qualsiasi dubbio, analisi Fatemi sapere che apertura vorreste che porto in questo canale Che analizzo più nel dettaglio E per tutta la conclusione Vi lascio qui di video insieme in pressione E ci vediamo alla prossima Ciao